Musica Cattive ragazze! Certo che sì! Andata! Starai mica pensando di uscire a quel modo? Sì perché... Ma anche no! Avevi detto che le cattive ragazze piacciono a tutti? Confermo. Ma di certo non piacciono... Ai fidanzati. Come ti permetti di telefonarmi ora? Dopo aver dipinto di blu tutti i miei armadilli nei cassetti e... Tu cosa? Lo so che non l'avresti mai fatto ma stavo sognando. Nota personale. Se il telefono ti sveglia, non rispondere. Mari siaっち una tua máscara è più effrazione. No eigentlich ha fみ di notizia. Non è vera la famosa. Ciao! Quindi quando ti sveglia, ma lo sovra site da un'ordine.